SQUA SQUA SQUA! Ciao a tutti ragazzi io sono Andrea Giver Ita Oh yes Dai 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 Mamma i peisci Non si sente niente perchè io ho le cuffie Oh si Video della scuola Avete sentito? In quel video là Stratto unito si ragazzi adesso si inizia a gnoccare a giocare se posso posso grazie ok e se cadi mazzo ok sta iniziando un video video cittadella non è un mondo pulito Skywars non è da fare e il mio mondo continuerà ok venga l'istoria aspettate ragazzi forse aspettate ok ragazzi si può iniziare nella mia scena sono tutti in diamante lo so qua i cartelli leggiamo qua c'è scritto miniera non lo so se lo vedete comunque vietato entrare ma solo io posso entrare lol qua voi non sapete niente qua un quadro solo per guardare ma non so perché metto cose a casa perché non lo so qua c'è un quadro una via nascosta chiusa qua non si può fare niente vedete voglio entrare non si può non si può mai entrare ma se lo spaccate io lo uccido vabbè non è niente si può spaccare voi non li sentite i rumori guardate 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 sentite aspettate sentite visto che fa questa cosa mettiamo più forte adesso andiamo qua c'è la piccozza ma io sono ricco spondato di moni ah qua c'è la spazzatura lo butto tutto infatti se tu prendi danno c'è questa e io perché c'è questa ragazzi questa vozione guardate 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 na 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 nahbau diamanti diamanti 64 milioni ho un sacco di diamanti cubi e poi qua ci sono il fornito questo qua dove vedete la crocetta diamante questo qua è ferro poi non vi confondete sempre un diamante ma è uno smeraldo diamante qua tutta l'armatura con tnt tante dnt tanti accendini e tanti questi nessuno lo saprà mai ma solo voi lo potete vedere amici grandi amici madonna mi sono bloccato che è un bloccato assaliamo qua sopra ok vi da rubare perché io vi uccido se rubate vabbè scherzo non vi uccido ma non si deve neanche entrare con la mia spada vengo a casa vostra e vi massacro vostra alla ricerca di video poi farò la challenge proprio a non ridere e se vedete che io ho fatto quel video la che devo fare tutte le cose ho combinato le cuffie e ce le ho le cuffie e vedi che questo video infatti è è speciale speciale tutti i video che avevo fatto perché io avevo un altro nome fai nello mi chiamavo andrà fai nezza freddis non so se che lo conosce chi lo conosce sto game di freddi buon uomo e questa e io avevo fatto un sacco di video ma più belli ma belle e poi li ho cancellati per fare questa nuova invenzione non è vero non sono intelligente fregno come danny lion dice dobbiamo essere fregni e scrivete nei commenti se non scrivete nei commenti se non scrivete nei commenti vengo a casa vostra vi uccido vabbè no vi do vi do sculacciate se non scrivete nei commenti se non scrivete nei commenti vengo a casa vostra e vi do sculacciate ok? no veramente non so sono serio se non mi scrivete nei commenti non mi mettete i pollici in su vengo a casa vostra e vi schiaffeggio quelle chiappe di 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 mucca di cane di pollo picchio i polli anzi io picchio le mucche i cani picchio i cani lion i polli e io i cani la 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 oh che sciana bah c'ho la spada di gesù la spada di gesù deve colpire due gli animali muoiono in subito con la spada di gesù adesso la spada di gesù la sto uccidendo è solo a cacca cacca e cacca ah si vedete le mele d'oro me le sono fatte perché devo essere fregno bisogna bisogna essere fregni fregni come me me magno una gode apple e poi candia e io metterò giorno no notte giorno voglio essere giorno io non posso mettere notte perchè non sono Gesù lo so io non uso le hack non sono un hack ah cristo vaffanculo che cavolo è successo ma che cavolo perchè sto volando perchè sto volando perchè ho messo si è spacca madonna si è caduto l'acca minchia che cosa è successo abbiamo trovato allora però delle cose mamma mia oio che è successo mi sono rimasto solo queste cose ciao ora metto a casa ok bye bye ciao coniglio coniglio ti uccido se tu e intanto uccido gli animali ti prendo ti prendo non mi sfuggi non ho preso niente non ho preso niente non ho preso niente si vede dal legno di cavolo di Gesù perchè Gesù 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 aiutami tu Gesù ti prego ahhh dai 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 il problema è che i video faccio cristo la madonna di Gesù santo comunque il video non so se finisce qui ma non finirà qui perchè è successo un bordello dai cacchio non ti bloccare oddio mio che è successo l'inferno mi sono spoccato tutti gli occhiali che schifo non ci porca dio che sto scafago ma ste cuffie non mi stanno cioè non mi stanno mi cadono da scemo sono da scemi cose da scemi no 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 qua qua oddio oddio cosa ho fatto tutti i miei se si spaccavano gli occhiali ero morto oddio ti prego voglio fare una giornata tranquilla pensate che io gioco di mattardi sono le e ora abbiamo giocato morci 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 muca andiamo a cucinare sembra un bambino quello che c'è in mano quando finisce di cucinare finiamo il video ok ok allora posso avevo mangiato io la melà oro non pensavo di trovare oro oro oh yes questo è cucinato ora finiamo il video comunque ragazzi spero il video se vi è piaciuto instagram facebook e twitter non ce l'ho neanche whatsapp perchè mio padre non mi dà le cose belle comunque ragazzi io sono spero che il video vi sia piaciuto scrivete scrivete nei commenti mettete 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 un sacco di pollici ma io non so quanti ma io dico mettete tanti pollici e noi adesso mangiamo con una melà d'oro e mi godro voi che soffrite guardate guardate scherzo comunque vabbè continuo comunque ragazzi ci vediamo aspetta devo cucinare questo comunque ragazzi bello a tutti ragazzi bambamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam